ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di cosa si tratta di un litigio fra due cioccolatini ve lo vado a leggere uno dice all'altro sei un cremino e tu un grandissimo pezzo di tronchi non fare il giandui otto ma smettila che ti fai ancora il ripieno addosso ti ci vogliono l'indor lì sotto taci boero tu taci che sei come quel tuo amico piemontese chi quel cuneese sempre ubriaco di rum e allora tu che sei come tuo cugino raffaello quello albino schizzinoso per ogni cosa è meglio essere schizzinoso che toblerone basta mi è rotto il kinder bueno me ne vado in palestra a fare un po' di ritter sport dai facciamo la pace mon chéri dammi un bacio ciao